Buongiorno, pepore al giorno di cuminaria, abbiamo aggiornato questa mattina, alle ore 9, come con la categoria 5. Non so stare me, la ragione di, in questi tanti sono fai dietro. Ma almeno qui è fuori, ma non hai detto che dovevi venire dietro lì? Sì, sì. Sì, c'è un altro giro, è un altro giro. Grande Viotti! Sì, c'è un altro giro. 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 brava. C'è un altro giro.